Il capitale europeo della cultura Matera, la bellezza di Matera è stato senz'altro un punto di partenza affinché possa essere stato raggiunto questo traguardo importante? Direi che è un punto d'arrivo perché Matera contro la cultura, intesa come la cultura dominante, la cultura degli architetti del PD come quello che ha fatto l'orrida stazione che è stata magnificata, la cultura delle paleoliche di merda che impestano la città e quindi è un segnale interessante che quello che avviene qui sia il paradosso di una Matera che vince sulla falsa cultura dei luoghi comuni, delle banalità, di questa serie di cretinate che loro fanno passare per iniziative importanti. e che io poi tra l'altro conosco molto in perfetto perché non è stata fatta neppure la comunicazione, ma quando io venni a parlare con il sindaco ho in mente che avendo Matera vinto contro Venezia sarebbe stato importante fare una grande mostra che mostrasse come io spiegavo ieri in uno spettacolo che abbiamo fatto sulle meraviglie d'Italia con il direttore Denittis, il collegamento fra Venezia e Matera attraverso Mantegna, Bellini e tu devi far capire che qui ci sono le stesse cose che ci sono a Venezia, non che è la cultura popolare che giustamente c'è ma c'è ovunque. e questo secondo me è culturalmente una sconfitta perché si poteva esaltare il ruolo di Venezia nel meridione sul vantaggio del nome di Venezia come nome universale. però Matera ha un nome che è talmente forte ormai grazie all'aspettativa di questo anno che sarà quello che sarà, qualunque cosa facciano, ma intanto Matera è sopravvissuta alla cultura che le volevano imporre e che le vogliono imporre con una serie di bagianate. Certo questa delle bande è molto divertente, molto popolare, ma insomma mi chiedo perché non si è fatto un concerto d'apertura con Mutti? Non va bene, perché non si parla di Leonardo di quel cinquecentesimo? Perché la cultura universale non cade qui? Questo è un luogo che deve essere come New York, come Venezia, come Parigi, non cui fai le cose popolari, gli happening, i panini. Mi pare, comunque, siccome il piano non è ancora chiaro, voglio dare le chance. Per esempio la mia idea di Venezia Matera è diventata una bellissima mostra sul rinascimento meridionale, ma vuoi mettere nel nome il richiamo? Nel rinascimento meridionale penserai che sono dei pittori che dipendono forse da Raffaello, ma Venezia Matera era uno scontro e un conflitto. Se non sei capace di trovare neanche il titolo giusto per far capire che questa è la capitale del mondo, non è la capitale di una dimensione limitata, fai una cosa in cui usi la parola cultura in quel modo sbruffonesco in cui la usano tutti. È insopportabile, comunque, dei discorsi, facciamo progetti sostenibili, devi fare progetti insostenibili, ma che cazzo di parole sono? E poi comunque le paleoliche, che sono il vero cancro del meridione, l'hanno aggredita Matera, a dimostrazione che l'articolo della Costituzione che tutela il paesaggio non è stato rispettato, e neanche la incantata integrità di Matera, ma dico è il paesaggio di Cristo, ci metti le paleoliche, nel culo se le devono mettere queste teste di cazzo. Però mi piace che Matera riesca anche a vincere, nonostante questa improvvisazione, questa volgarità, una paleolica Matera è come Cristo in croce. E chi l'ha consentita non ha capito un cazzo di quella che era la bellezza incantata e fuori del tempo, che ha portato qua Pasolini e che ha portato qua Matera. Studino questi incapaci, invece di parlare di cultura per l'anima del cazzo. Però Matera vince e si verrà a Matera così, perché è bello andare a Matera, è giusto andare a Matera, come si fa a Venezia. Però insomma non mi sembra che siamo partiti bene. Però siamo partiti benissimo, c'è una contraddizione. Matera contro la cultura, Matera è capitale contro la cultura di merda dei Boeri, ma tu chiami Boeri qui, nel buco del culo te lo devi mettere, quella stazione di merda che hanno fatto. A vedere, a valucinare in Italia, un signore che si chiama Daniele Kilgren, il quale prese un intero paese, Santo Stefano di Sessanio, ed è diventato poi un modello universale. E sanò questo paese, prima del terremoto che ha distrutto tutto l'intorno, meno tanto Stefano, per fare quello che si chiama albergo diffuso. E i restauri che ha fatto lì sono restituzione di un mondo contadino, di un mondo perduto. E quello che valeva uno oggi vale mille, perché è riuscito a ricreare quello che non c'è più. E' venuto qui e ha fatto Sextanzio, che è un albergo sublime, il più bel albergo d'Europa, è l'iniziativa culturale più importante, cioè far sentire che si può vivere nei sassi senza morirci. Quello è, fino ad oggi, l'esempio di cultura più straordinario che ha assorbito la natura di Matera. E questo è importante, non è stato citato ovviamente e non è indicato, perché è più importante fare non so quale altra stupidaggine, che comunque avrà anche un suo significato. Perché si rischia di far diventare Matera come Lecce, cioè un bar e un ristorante ogni sei metri. Tu non puoi andare in giro a vedere il barocco perché vedi ristorantini, pizzerie, una quantità di cose. Che è purtroppo il rischio di un consumismo che nega la cultura. Che nega la cultura di Pasolini, di cui si riempiono la bocca, che nega la cultura di cui Kilgren è interpreto. Andate a Santo Tempolo di Sessanio e vedete che la cosa è un modello sublime che andava moltiplicato ed è stato da lui moltiplicato in questo formidabile albergo. Quello è la cultura nel senso più preciso che tu puoi dare alla conservazione di questa identità. Altrimenti perché Pasolini, perché Mel Gibson se metti le paleoliche? Nel culo se le devono mettere.